Il Presidente della Repubblica è onorata e la Signora Segretario dello Stato Italiano Meloni sono onorati di partecipare alla firma del Memirandum fra il Ministero dell'Insegnamento Superiore della Tunisia e il Ministero dell'Università della Repubblica Italiana. La firma sarà firmata dalla parte tunisina dal Signor Monzo Buchtir, Ministro dell'Insegnamento Superiore e dalla parte italiana. Sarà firmato dalla Signora Anna Maria Bernini, Ministra dell'Università e della Ricerca in Italia. Sarà firmato il Memorandum. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.